Musica Benvenuti dal TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla bufera che si è abbattuta sulla commissione di inchiesta sui rifiuti istituita a Gela per far luce sulla gestione del servizio. Tutto prende spunto da un esposto presentato in procura da uno dei componenti, il grillino Angelo Amato, secondo il quale durante i lavori avrebbe ricevuto delle pressioni da parte degli altri nove componenti affinché venissero occultate determinate questioni. Accusa respinta con forza. La commissione di inchiesta sui rifiuti istituita a Gela per far luce sulla gestione del servizio è nella bufera dopo un esposto presentato in procura da uno dei componenti, il grillino Angelo Amato, secondo il quale durante i lavori avrebbe ricevuto delle pressioni da parte degli altri nove componenti affinché venissero occultate determinate questioni. Accusa che il presidente della commissione, Totogallo, e gli altri componenti respingono con forza. Tra l'altro dice anche che non ha avuto la possibilità di vedere gli atti, io non so come questo sia possibile. un componente della commissione che ha gli atti sul tavolo tutti i giorni delle riunioni e dice che non li ha avuti. La verità è che la commissione ha terminato il proprio mandato, se non ricordo male, l'11 di settembre e lui ha fatto una richiesta di accesso agli atti, tra l'altro, ripeto, atti che lui aveva sempre a disposizione, una settimana dopo. Quindi la commissione era sciolta, io non ero più il coordinatore, quindi il delegato del presidente e non ho potuto rispondere a quella richiesta. Interrogati qualche giorno dietro dalla polizia, i nove componenti, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi in municipio, hanno anche tenuto a precisare di non essere indagati e che probabilmente l'obiettivo del consigliere Amato era quello di delegittimare sia il loro operato che le istituzioni. I nove componenti hanno quindi rivolto un appello alla procura affinché al più presto faccia luce sull'intera vicenda. Sono stupefatto di quello che sta succedendo dietro, dopo aver fatto il lavoro certosino, trovarsi convocati in commissariato per difendere il proprio operato mi sembra assolutamente assurdo. Si dice che la commissione ha dichiarato il falso, la commissione ha fatto delle intimidazioni nei confronti di un membro della commissione. Tutto questo non è assolutamente vero e chiediamo alla Prefettura di fare appunto luce su questa questione. Se qualcuno pensa in questo caso il Movimento 5 Stelle che sta condividendo assolutamente attraverso i social network il brillante lavoro fatto dal loro collega Amato, pensa che sia un modo corretto di fare politica per cercare sempre di delegittimare le istituzioni, io penso che alla fine per loro sarà un boomerang. Perché quando si ingiuria, quando si diffama, quando si usa la delazione come arte politica poi alla fine tutto gli si ripercuote contro. Eravamo già noi tranquilli del fatto che stavamo conducendo il tutto con la massima trasparenza, con la massima correttezza, con il supporto di tutti i mezzi tecnologici a disposizione, quindi trascrizioni, registrazioni. Abbiamo svolto tutte le audizioni possibili e immaginabili, tutte quelle che a volte non condividavamo ma che erano richieste dal collega Amato, quindi sì, l'invito a stare sereno perché volevamo un clima sereno, questo sì, lo confesso. Si prevedono disagi idrici a Gela, Mazzalino, Butera e Riesi a seguito dell'interruzione dell'acquedotto Blufi a causa della rottura di un tratto di condotta. Dai tempi di ripristino, salvo ulteriori imprevisti, la distribuzione riprenderà domani. Intanto l'unità di igiene pubblica del distretto di Gela ha riscontrato la presenza di batteri superiore ai parametri nei campioni d'acqua prelevati dal punto della Villa Giuseppe Garibaldi. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Caltanissetta ha informato il sindaco Domenico Messinese che ha firmato un'ordinanza con la quale vieta l'uso alimentare delle risorse idriche alle utenze del centro storico. Gli esiti delle analisi sono state fornite anche a Caltacqua che così dovrà provvedere ad individuare ed eliminare con urgenza il disservizio. Cambiamo argomento e adesso parliamo di un'attività anticrimine svolta a Gela nelle ultime ore dalla Polizia. Intensa attività anticrimine di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa del Commissario di Gela diretto da Francesco Marino con l'implementazione di quattro pattuglie del Nucleo Prevenzione Crimine di Palermo. 410 le persone controllate e 200 i veicoli ispezionati. Passati ai raggi X 33 soggetti ai domiciliari, 53 sorvegliati speciali di pubblica sicurezza e 11 in libertà vigilata. Elevate 19 contravenzioni al codice della strada. Un gelese di 40 anni è stato arrestato in esecuzione di un ordine messo dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta. Si tratta di Gaetano Davide Alfieri. Deve scontare sei mesi di carcere per raccolta non autorizzata di rifiuti speciali tutela ambientale commessi a Gela dal 2010 al febbraio del 2012. Altri due gelesi di 60 e 58 anni sono stati ammanettati per costruzione abusiva e violazione di sigilli. Il 60enne dovrà espiare 3 anni e 8 mesi, il 58enne 36 mesi di reclusione. Un pluriprogiudicato di 66 anni è stato denunciato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per avere guidato un ciclomotore privo della patente di guida perché revocata e senza carta di circolazione. Il mezzo è stato sequestrato. Un 24enne dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale. Il ragazzo ha cercato di eludere il controllo di polizia alla guida di un ciclomotore in compagnia di un altro soggetto. Nonostante l'alt, imposto dagli agenti, è fuggito a velocità sostenuta e con manovre spericolate per le vie della città, creando pericolo alle persone e ai veicoli. Diffamazione è invece l'accusa mossa ad un 31enne. Un 26enne dovrà rispondere di inosservanza a degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria e quindi di non associarsi a pregiudicati o a sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. Il fatto è stato accertato a Gela. Lo scorso 14 novembre, durante un controllo nella sua abitazione, è stato trovato in compagnia di un pregiudicato. Un calabrese di 31 anni è stato denunciato per truffa. Nell'ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti, in particolare nei luoghi di aggregazione dei giovani, quattro minorenni e due maggiorenni sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta, sequestrati dosi per uso personale di 10 grammi di mariana e quattro di hashish. Si darà domani alle 10 presso la sede di via Senatore D'Amaggio 5 a Gela l'incontro dal titolo Le ragioni del no al referendum costituzionale organizzato dal Movimento Politico Locale Destra in Movimento. Un focus importante per capire i possibili risvolti in chiave nazionale e locale del prossimo referendum consultivo del 4 dicembre attraverso l'analisi mirata dei componenti del Movimento. Cambia la costituzione tra dubbi e certezze e il tema che sarà affrontato nell'ambito dell'attivo e dei quadri della Cigelle previsto per mercoledì 23 novembre alle 9 all'hotel Ventura a Caltanissetta. Introdurrà i lavori. Ignazio Giudice, segretario provinciale generale della Cigelle Nissena, interverranno Giancarlo Ferro, docente di diritto costituzionale all'Università di Catania ed il magistrato Lirio Conti. Concluderà Mimma Argurio della segretaria regionale generale della Cigelle Sicilia. Sono fermi ancora al mese di luglio gli stipendi dei 95 lavoratori e lavoratrici dell'ATI, ovvero l'associazione temporanea di impresa costituita dalle cooperative Progetto Vita e la Città del Sole che si occupano dei servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili e asili nido. Ad evidenziarlo sono le organizzazioni sindacali Cigelle, Cisle, Will che rilevano ancora una volta il cronico ritardo ingiustificato degli stipendi pur sapendo che il presidente dell'ATI ha già ricevuto con valuta del 15 e 16 novembre l'accredito dei mandati di pagamento di agosto e settembre. Una situazione ormai insostenibile per i lavoratori che hanno chiesto alle organizzazioni sindacali di muoversi per reclamare i loro diritti, mentre i sindacati a loro volta chiedono una maggiore vigilanza da parte del comune. La situazione ad oggi, io ho saputo che qualcuno degli asili ha ricevuto il bonifico, ma non tutti, ma ti parlo che ad agosto le fatture degli asili, i compensi sono di 50-100 euro, perché ad agosto si pagano solo le ferie non maturate. Per quanto riguarda settembre, pur avendolo incassato con valuta 16, non ha effettuato alcun pagamento e non ha effettuato alcun pagamento Città del Sole, né per agosto né per settembre. Quindi abbiamo, se vogliamo parlare di una disparità, se al solito fra dipendenti alcuni ricevono lo stipendio, alcuni non lo ricevono, ma il vero problema è quello che queste lavoratrici, pur andando ogni mattina come ognuno di noi che ha un lavoro a lavorare mettendo benzina nell'auto per raggiungere gli asili, non vengono mai ogni mese pagate quando dovrebbero. Non vengono manco pagate dopo un mese, due mesi. Siamo sempre alle solite, ma noi chiediamo al Comune un controllo sui pagamenti da parte delle ditte, perché le ditte che si aggiudicano una gara d'appalto, quali è l'ATI, devono avere la capacità economica e tecnica. Questa capacità economica si dovrebbe tradurre nell'anticipo di almeno due stipendi qualora non arrivasse il pagamento delle fatture del Comune. Ebbene, questo è avvenuto qualche volta, ma per un mese solamente e mai per i due mesi. Allora noi chiediamo al Comune di vigilare in tal senso. Ad un anno dalla sua scomparsa, la pubblica assistenza Procivis di Gela ricorda Giacomo Ferrera. Oggi alle 17.30, nella Sala Congressi in Via Ossidiana 23, Don Raimondo Giammusso celebrerà l'Eucaristia alla presenza dei volontari e di tutti coloro i quali vorranno partecipare. Al termine della messa, alla presenza della moglie, Maria Granvillano, seguirà l'intitolazione della Sala Operativa a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale del Servizio Emergenza Radio e della Federazione Italiana RICE Trasmissioni. Concerto di beneficenza in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si darà domani nella chiesa Sant'Agostino di Gela, promosso dalla sua azione Amici della Musica Giuseppe Navarra, in collaborazione con la Regione Sicilia, il Comune, il Comitato Provinciale Unicef, il Lions International e l'Interact. Il programma prevede alle 18 la celebrazione della messa e alle 19.15 il concerto. L'evento sarà accompagnato da una raccolta fondi in favore della campagna Unicef 100%. Vacciniamoli tutti. Sarà presentato oggi pomeriggio alle 17 nei locali della liceo classico Eschilo di Gela il libro Salmi, passi, proverbi biblici contro la depressione scritto da Giorgio Romano. L'iniziativa è del Chivanis International e della FIDAPA. Modelerà i lavori Giuseppe Abate, tra i presenti anche Don Luigi Petraria, il deputato regionale Giuseppe Arancio ed il dirigente scolastico Giochino Pelitteri. Ma sentiamo ai nostri microfoni l'autore del volume, Giorgio Romano. Professore Giorgio Romano, come è nata l'idea di scrivere quest'ultima fatica letteraria? Praticamente è nata il fatto che per come vanno le cose nel mondo è giusto che si dia un input a risolvere alcuni problemi spirituali e materiali. Il libro praticamente è suddiviso in due sezioni. La prima parte è a livello scientifico, medico. Paolo Pancheri mi ha dato il permesso di portare a un suo servizio depressione, ansia e insonnia. Praticamente Paolo Pancheri è il primario della clinica psichiatrica della sapienza in Roma. Tra l'altro come relatrice verrà la figlia per presentare questo libro. Quindi è a livello scientifico e a livello religioso. Come hanno scritto il professore Franco Pistritto e Rocco Lobartolo che hanno fatto la prefazione e la conclusione è praticamente un incoraggiamento o una specie di soluzione per superare certi problemi. A proposito dei passi biblici, ci sono riportati passi, salmi e proverbi biblici. e questi devono essere visti in senso pratico, nel senso che uno va a vedere l'indice dove c'è quando sei triste, quando sei stanco, quando sei depresso, prendi il passo adatto e si cerca di risolvere quanto desiderato e sperato. E' una ricetta per stare bene se vogliamo? Sì, è una ricetta per stare bene. Guarda, io pensavo di averlo scritto per gli altri. Lo uso e l'ho usato per me e ho visto che fa effetto. Per esempio, quando uno in determinate circostanze ha bisogno di aiuto spirituale e anche morale o materiale, va a cercare il passo adatto. Per esempio, quando ti invoco, esaudisci mio Signore. E uno deve essere come i Maccabèi. Maccabèi significa martellante. Non lo deve dire una sola volta, ma tante volte. Finché Dio, come se fosse una persona, ci ascolta e esaudisca i nostri progetti. E per quale motivo lei, tra parentesi, sottolinea una medicina per l'anima oltre al Prozac? Il Prozac, come dice Pancheri, che è uno dei migliori antidepressivi, praticamente può risolvere momentaneamente alcune cose, ma non curare. E oggi, alle 18, presso la libreria Mondadori di Via Marconi 25 a Gela, si terrà l'iniziativa a pomeriggio in giallo. Per l'occasione saranno presentati i due libri Codice Omega di Nino Branchina e Le Regole del perdono di Francesco Alessandro Veutro. Dialogherà con gli autori Diana Anastasi. E in edicola lo vediamo il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Questi gli argomenti più importanti di questo numero, il cambio di programma di Eni, che non costruirà più la piattaforma offshore, ma una stazione gas su terraferma, farà risparmiare all'azienda di Stato 500 milioni di euro. Il giornale spinge la politica gelese a muoversi affinché questo tesoretto venga reinvestito sul territorio, magari costruendo infrastrutture come la nuova rete idrica e fognaria della città, o anche in nuovi impianti di produzione industriale che possono rilanciare l'economia e l'occupazione del territorio. Giulio Cordaro, nella sua rubrica settimanale, politicamente scorretto, snocciola vizi, malcostume e inademmienze della classe politica locale. Nello Lombardo firma il resoconto dell'ultima seduta consigliare, mentre Zaira Placenti intervista Maria Pingo, una veterana del Consiglio Comunale. All'interno altri servizi e articoli di attualità e cultura, c'è la pagina delle aste giudiziarie, e lo sport con le finestre su calcio ed altre discipline a firma di Orazio Accomando e Zaira Placenti con i commenti su Gela e Terra Nova. In ultima, come di consueto, la pagina degli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo lì in allergia per la pubblicità. Ed eccoci, secondo parte del telegiornale, domani si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela, la Scuola Amica dell'Unicef, lunedì 21 e martedì 22 a novembre, metterà in campo una serie di iniziative che vedranno protagonisti gli alunni attraverso la preparazione di cartelonistica, riflessioni, visione di cortometraggi, esibizioni sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare, giorno 21, le classi di scuola primaria del plesso di Via Caviaga si regheranno nel plesso centrale di Via Salonico e assieme alle altre classi di scuola primaria e secondaria di primo grado festeggeranno l'evento. Martedì 22, invece, tutte le sezioni di scuola dell'infanzia ricorderanno questa giornata incontrandosi nel plesso di Via Caviaga dove è prevista la marcia dei diritti nel cortile della scuola. La giornata prevede la presenza di una delegazione e dei volontari dell'Unicef che si presteranno a dare il loro contributo. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela col patrocinio della Regione, del Comune e del Museo. Oggi, alle 19, è prevista, nei locali del Museo archeologico regionale, l'esibizione del chitarrista Davide Sciacca assieme al polistrumentista e sperimentatore Rosario Tomarchio. Caltanissetta tra le rotte di Cafoscari. Gli studenti delle classi quarta e quinta degli istituti superiori della città hanno infatti potuto conoscere da vicino l'offerta formativa dell'Università Cafoscari di Venezia. Un incontro organizzato nell'aulamagna del liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero VII in occasione del seminario di studi su Leonardo Sciaccia. L'esperienza di altri momenti di orientamento realizzati all'interno della scuola ma abbiamo veramente l'onore di ospitare l'Università Cafoscari presso la quale diversi nostri studenti si sono iscritti negli anni precedenti e addirittura lo scorso anno alcune studentesse hanno frequentato la scuola di orientamento estiva che ha permesso loro di conoscere in modo più approfondito quelle che sono le offerte formative dell'Università. Un incontro che si è aperto con un video per far conoscere da vicino agli studenti l'Università Cafoscari di Venezia seguito dagli interventi di un team di docenti coordinati da Ricciarda Ricorda. La nostra offerta formativa diciamo tradizionalmente ha due aree di particolare importanza che sono le lingue sia occidentali che soprattutto orientali siamo un'università che insegna il maggior numero di lingue e poi l'economia e il management. A questo cuore diciamo storico di Cafoscari sono poi aggiunti anche corse di laurea umanistiche quindi abbiamo storia, lettere beni culturali che naturalmente a Venezia trova una sede molto adatta e alcuni corsi di scienze. L'offerta formativa è molto articolata perché abbiamo molti corsi di laurea 16 triennali e 30 magistrali quindi lo studente può completare la sua formazione in questi campi trovando tra l'altro un ambiente diciamo molto consono. Venezia è una dimensione particolare oltre a essere come si dice non a torto una delle città più belle del mondo consente anche agli studenti di trovare un'università di medie dimensioni che è molto quotata dal punto di vista della ricerca e anche della didattica ma nello stesso tempo offre anche la possibilità di un rapporto con i docenti con il personale tecnico amministrativo diciamo ancora molto personalizzata quindi non siamo un ateneo da dimensioni appunto tali da non concederci di seguire gli studenti molto da vicino infatti i risultati che ci restituiscono le varie inchieste sono molto buoni abbiamo un tasso di soddisfazione degli studenti molto alto anche una buona occupabilità superiore alla media nazionale E ora parliamo di calcio Gela domani in campo al Presti contro la Versa Normanna i Biancazzurri inseguono il terzo successo di fila Si ritorna in casa dinanzi al pubblico amico domani alle 14.30 il Gela al Presti ospiterà la Versa Normanna nell'ambito della dodicesima giornata del campionato di Serie D I Biancazzurri sono reduci da due vittorie di seguito e filano come un espresso un vecchio adagio sempre di moda recita non c'è due senza tre domani si brinda al terzo successo consecutivo la domanda l'abbiamo posta al tecnico Pietro Infantino Il Gela deve pensare a fare la partita io credo con questi componenti di aggressione di umiltà, di compattezza i risultati vengono credo che abbiamo trovato una strada maestra per affrontare questi avversari adesso viene la Versa Normanna ma noi tutta la settimana lavoriamo su noi stessi io credo che se il Gela è molto concentrato è aggressivo, è propositivo credo che l'avversario è meno forte di come lo presentano Un gruppo granitico quello del Gela una famiglia vera e propria Questa squadra, questo gruppo sta dimostrando veramente grande coesione io quando sono arrivato ho detto due parole famiglia e lavoro io conosco solo questi siamo cresciuti con questi valori e la famiglia si vede nei momenti di difficoltà di unione, di aiutare il fratello e il lavoro perché credo che solamente con il lavoro con l'umiltà, con la caparbietà ci sono i risultati alla lunga vengono sempre Ma ancora pensate alla salvezza oppure bisogna parlare anche di altro? No, ma noi non... porsi dei limiti secondo me è molto limitativo verso una persona verso qualsiasi lavoro fai io credo che ognuno deve essere ambizioso l'obiettivo principale è quello di migliorarsi giorno dopo giorno ho detto una frase quella di stupirci per stupire nel senso stupirci perché magari un giocatore all'inizio pensa di non saper fare una cosa invece con il lavoro con la caparbietà che ho detto prima riesce a fare un'azione uno scatto, un salto che prima pensava di non farle solo così si può stupire le persone migliorandosi, lavorando sempre con grande serietà ho detto ai ragazzi che a noi ci devono dire che siamo scarsi ma mai poco professionali questo è l'obiettivo principale di questo gruppo non ci dobbiamo porre dei limiti dobbiamo essere ambiziosi con noi stessi e lavorare con molta serietà sicuramente i risultati con questo equilibrio che c'è in questo campionato i risultati vengono sempre Appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in proiezione il film Ti amo Presidente sono due gli orari 19.30 e 21.30 all'antidoto è scattata anche la campagna abbonamenti per la stagione teatrale il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre l'abbonamento costa 70 euro intero 55 euro ridotto per i giovani e al Teatro Eschilo di Gela oggi alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A Raimondo Todaro e Francesca Tocca porteranno in scena il grande Gershwin lunedì 21 invece alle 21.15 saleranno sul palco Gabriel Garco e Ugo Pagliai in Odio Amleto per informazioni lo ricordiamo il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20 abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo un buon fine settimana un appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti